Tocci Catalani, le impressioni prima della vostra semifinale? Siamo pronti a giocare a una semifinale che sulla carta si prospetta sicuramente a un'ora. Penso che arrivate a questo punto delle finale nazionali, ma c'è una semifinale differentemente. Per ora abbiamo fatto un torneo molto positivo. Ieri abbiamo vinto un quarto del finale in un derby che dal punto di vista emotivo ci è costato tanto. Abbiamo giocato una buona pallacanessa a tratti e oggi proveremo a mettere l'energia giusta per giocare la nostra partita contro una squadra che sulla carta è molto completa, ma contro la quale vogliamo provare a giocare a viso aperto.